Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi Colpo grosso per Alfonso Signorini e la nuova edizione del Grande Fratello VIP? In arrivo due sportivi, stellari, ecco di chi si tratta Nella prossima edizione del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini si aspettano grandi sorpresi e scoop Anche due presunti sportivi, stellari, ma entreranno davvero a far parte della casa più spiata d'Italia? Arriva la verità? Tutto portava all'arrivo in scena di due sportivi o per meglio dire due calciatori Sia il promo del noto reality show che il conduttore Alfonso Signorini che ogni segnala lanciato negli ultimi giorni avevano condotto a questo doppio ingresso Ma sarà davvero così? Intanto, vi annunciamo che il Grande Fratello VIP 7 potrebbe durare ancora di più in quest'anno Dipenderà sicuramente dagli ascolti però secondo le anticipazioni dovrebbe arrivare a durare addirittura fino a maggio del prossimo anno, battendo ogni record di durata Grande Fratello VIP, svelati i nomi degli sportivi. Ma ci saranno? Si continua a parlare della nuova edizione del GF VIP. Se da un lato viene discussa la sua durata dall'altro si parla sicuramente anche del cast dei concorrenti In questi giorni si è vociferato a lungo i nomi di due papabili concorrenti, Diego Armando Maradona Junior e Maxi Lopez A scatenare il rumor di Diego Armando Maradona Junior e Maxi Lopez come papabili concorrenti è stato un indizio rilasciato da Alfonso Signorini, ovvero la foto di un pallone da calcio, molto simile a quello che tiene in mano Diego in un'altra immagine, e la canzone Tuttavia arriva la smentita ufficiale, come riportato sul sito di Gossip e TV Diego Armando Maradona Junior sarà impegnato per i prossimi mesi ad allenare la squadra del Napoli United e dunque non varcherà la soglia della Porta Rossa Allo stesso modo è stato smentito anche il nome di Maxi Lopez, l'ex marito di Vanda Nara In questo caso è stato a Tay People, pare che l'ex giocatore del Torino abbia preferito rinunciare alla televisione italiana per acquistare il Birmingham, noto club inglese di calcio Qui la domanda sorge spontanea chi entrerà nella casa del GF VIP 7? Al momento non c'è la certezza assoluta ma sembrerebbe che tra i nomi sicuri ci siano quelli di Chadia Rodriguez, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, Giorgi Chupilane e Antonino Spinalbese Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato l'intero video